buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi sabato 24 giugno 2023 bene 24 giugno è una data che si può ricordare perché è la festa di san giovanni battista lo vediamo subito nell'almanacco del giorno la natività di san giovanni 24 giugno è una data un po anche intrigante perché poi insomma il medioevo era un po la notte delle streghe ma in realtà questo con la religione non c'entra nulla parliamo di san giovanni figlio di elisabetta cugino di gesù fu il suo profeta colui che lo annunziò con la predicazione appunto del messia fu lui a battezzare gesù condusse una vita ascetica e morì decollato per una sentenza di erode infatuato dalla figliastra salome che ne aveva chiesto la morte fu un uomo che è stato detto l'anticipatore colui che ha annunziato appunto la venuta del messia un grande santo fu fatto santo addirittura quando era ancora nel seno della madre elisabetta vediamo le previsioni del tempo ebbene la temperatura si è abbassata il cielo si è rannuvolato tempo instabile oggi su tutte le marche con piogge anche a carattere temporalesco un graduale miglioramento si sarà nelle prime ore pomeridiane sulle coste i venti spireranno da nord così come nell'interno e le temperature sono un po diminuite come ho detto la minima è 20 gradi le massime 26 gradi ma di questo chiediamo conferma al nostro amico bagnino di bagnalda di ponte sasso marco buongiorno marco buongiorno buongiorno tutti ebbene oggi ti vediamo in un contesto ambientale molto mutato rispetto ai giorni scorsi com'è com'è la situazione come la percepisci? guarda adesso come adesso sta goccinando mare è abbastanza dispato siamo fortunati perché c'è la bassa marea poi nel pomeriggio sicuramente arriverà sotto gli ombroglioni ed ecco aspettiamo il pomeriggio per il sole che questa mattina ormai ce lo siamo giocati vediamo laggiù all'orizzonte è un po' di chiarore ma anche le nuvole che toccano il mare vuol dire questo che ancora per tutta la mattinata ovviamente ci sarà un tempo un po' instabile l'immagino no? decisamente si decisamente si si vede che ancora tutto quanto è abbastanza scuro e deve sfogare tutta l'acqua che aveva promesso delle previsioni ancora ne ha fatta pochissimo diciamo ecco speriamo che la faccia tutta quanto l'ha in mare ecco già ne abbiamo preso abbastanza Marco dopo il caldo eccessivo dei giorni scorsi abbiamo superato abbondantemente i 30 gradi ebbene un po' di frescura fa bene però insomma che capiti proprio nel weekend per i concessionari di spiaggia non è proprio l'ottimo perché poi il weekend sabato e domenica è i giorni di maggiore affluenza vero? esatto ma non solo per noi ma anche per i turisti proprio lavorano tutta la settimana aspettando il sabato e domenica con un tempo del genere sinceramente non è l'apice diciamo che l'estate è partita appena appena e subito ci ha stroncato le gambe ecco va bene comunque domani le previsioni dicono che il tempo migliorerà quindi tornerà il sole senti avete così intrecciato un accordo con gli albergatori perché i concessionari di spiaggia e i albergatori sono i maggiori interpreti i maggiori protagonisti del nostro turismo sì decisamente sì partiamo sempre dal presupposto che il turista viene al mare per venire al mare e poi va all'albergo, appartamenti va a visitare tutte le cittadine e i paesini vicini e perciò c'è una buona collaborazione tra tutti ecco benissimo e poi una delle nostre caratteristiche è quello di abbinare il mare con l'entroterra no? quindi è bene soggiornare al mare ma anche quando è così maltempo si possono fare delle bellissime gite anche nell'entroterra e quindi passare una bella vacanza nel nostro territorio decisamente sì decisamente sì abbiamo dei paesini meravigliosi perciò è un bene che ogni tanto ci sia il tempo così così riescono a visitare anche i paesini all'interno un po' di respiro benissimo Marco noi ti ringraziamo per la tua presenza ci hai veramente così fatto sognare un po' una vacanza per tutta questa settimana ti auguriamo un buon lavoro e poi magari ci risentiremo ancora più in qua grazie per la tua presenza grazie mille apriamo ciao arrivederci apriamo i giornali oggi a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo l'apertura dedicata a una serie di lavori che l'amministrazione comunale sta compiendo anche in questa estate il Corriere accentra la sua attenzione su quello che è iniziato in Largo Rosselli in Piazza Rosselli Piazza Rosselli è quella nota ai fanesi come lo slargo antistante la bella Napoli quello che fa da collegamento tra via Garibaldi e viale Battisti due vie molto molto importanti per il transito della città via Garibaldi è una via commerciale viale Battisti invece è il viale che conduce al mare e fa da collegamento anche con la stazione ferroviaria quindi coloro che arrivano a Fano per andare al mare hanno proprio la via diretta per giungere all'anfiteatro Rastat nella spiaggia di Sassonia ebbene in Largo Rosselli cominciano i lavori di riqualificazione anzi il contratto è stato firmato dall'assessore lavori pubblici Barbara Brunori lunedì scorso i lavori sono iniziati si rifarà tutta la pavimentazione e si riqualificherà anche la grande aiuola che è antistante alla bella Napoli la pavimentazione sarà la stessa di quella che è stata realizzata in via Garibaldi e poi si interromperanno i lavori alla fine di luglio per non creare problemi nel mese di agosto e si riprenderanno a settembre quando si inizieranno i lavori anche nei controviali di viale Battisti ora questi ultimi versano veramente in una condizione di degrado indicibile percorrili in bicicletta è come passare su un cratere lunare però insomma da settembre in poi verranno riqualificati verrà rifatta l'illuminazione verranno posti degli arredi e quindi anche questa parte di Fano che collega il centro alla zona mare verrà riqualificata Largo Rosselli a tempo di record lunedì l'appalto ieri via ai lavori e poi vediamo invece un articolo a fondo pagina del Corriere Adriatico che riguarda la strada Sant'Egidio nella zona a sud del fiume Metauro Sant'Egidio in allarme per quattro sconosciuti ebbene l'amministrazione comunale ma anche le forze di polizia hanno detto più volte ai cittadini guardate se vedete degli strani girare nelle quartiere avvisate le forze dell'ordine perché probabilmente prevenire è meglio poi che intervenire dopo che sono stati compiuti dei furti oppure dei casi di ok tirano in caso l'ordine pubblico questa volta i cittadini si sono messi in allarme perché hanno visto appunto degli strani girare fare delle domande in realtà questi ultimi erano di vigili in Borghese e funzionari dell'Istat che circolavano per fare il censimento due agenti di polizia locale in Borghese e due incaricate dall'Istat sono nella zona di strada Sant'Egidio alle spalle di Metauriglia si tratta di accertamenti ai fini di un censimento hanno assicurato ieri gli uffici comunali quindi veramente in questo caso non c'è nulla da temere però è bene anche un allarme in più piuttosto che poi magari pagare lo scotto di un problema di ordine pubblico l'altro articolo di apertura nella seconda pagina dedicata a Fano del Corriere Adriatico riguarda un caso di politica già la campagna elettorale si è movimentata grazie alle prese di posizione dell'assessore Samuele Mascarine che ha così invitato le forze di centro-sinistra a organizzare le primarie per individuare i candidati e i temi soprattutto per le prossime elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi a maggio-giugno del prossimo anno ebbene ora anche il centro-destra serra le fila con le prossime elezioni la spallata definitiva al Partito Democratico e quanto si prefigge Forza Italia Forza Italia cita i sondaggi a livello nazionale e dicono che a parte che si propone come la seconda forza del centro-destra probabilmente la prima è quella di Fratelli d'Italia ma Forza Italia si pone ancora prima della Lega quindi una forza politica che ha conservato il suo assenso il suo assenso che poi è stato consolidato dopo la morte del suo lidere di Silvio Berlusconi ebbene i dirigenti di Forza Italia li vediamo qui in questa fotografia dove al centro troviamo la commissaria provinciale Elisabetta Foschi hanno annunciato due iniziative una si svolgerà questa mattina a Fano si tratta di un boxe per il tesseramento che verrà allestito a Porta Giulia nei pressi del Pino Bar e domani invece si andrà a Pesaro si tratta del centro commerciale Ipercop nella mattinata e Viale Trieste nel pomeriggio si cercherà di avere nuove adesioni nuovi tesseramenti e appunto Forza Italia propone si pone in evidenza per la campagna elettorale Pannelli fotovoltaici ridicola in puntatura e qui è Fratelli d'Italia invece che interviene nei confronti di un'amministrazione comunale che detta regole rigide per quanto riguarda i pannelli solari e qui la polemica è imbastita sui colori di questi pannelli c'è chi li vuole neri c'è chi li vuole rossi perché si confondono meglio con i coppi dei tetti delle case ma in realtà Fratelli d'Italia va contro l'imposizione della uniformità dei colori voluta dal Comune ecco perché si reagisce e in questo caso c'è stata anche una discussione nell'ultima seduta del Consiglio Comunale passiamo sempre nella Val Metauro dove c'è un articolo che parte da Fano ma poi arriva anche nell'entroterra il ripristino della ferrovia Fano Urbino lo studio resta fantasma il Comitato per la ciclovia Metauro torna a chiedere l'accesso agli atti un nuovo vento soffierebbe a favore del progetto sulla ciclovia del Metauro lo afferma un intervento dell'omonimo Comitato che si batte per realizzare una pista una pista che venga realizzata sui binari una pista lungo scusate lungo i binari dell'extratta ferrata Fano Urbino una pista che sia degna di questo nome e quello che appunto propongono i componenti del Comitato a Fossombrone invece si premiano coloro che hanno reso più bella la città in occasione della tappa del Giro d'Italia si tratta del concorso finestre e balconi fioriti il tris della Proloco e vediamo qui il sindaco che premia appunto i vincitori di questo concorso si tratta di Paola Badaltoni che ha allestito il suo balcone in via Pergamino di Annalisa Angeloni in Viale Martiri della Resistenza Manuel Tramontana in via Rossini ebbene questi sono i vincitori del concorso finestre e balconi e vicoli fioriti indetti dalla Proloco in occasione della tappa del Giro d'Italia beh si è resa ancora più bella la città passiamo nella Val Cesano passiamo a Pergola dove si evidenzia un'iniziativa di carattere turistico sportiva ovvero la ciclo polverosa si tratta della pedalata più longeva della Val Cesano giunta alla settima edizione 36 chilometri nella bellezza con degustazioni e pranzo finale nella bellezza del territorio colline valli borghi antichi buon cibo e tutto quello che offre questa bella pedalata perché poi andando in macchina non si vedono nei particolari le bellezze del paesaggio andando a piedi invece andando in bicicletta si notano certe cose che restano poi nel cuore perché sono quelle minuzie che messe tutte insieme destano veramente la bellezza del territorio vediamo anche la pagina di Senigallia dove continuano le ricerche di una donna dopo nove mesi Brunella è ancora dispersa continuano le ricerche anche con i droni la Q si tratta infatti di Brunella Q è stata spazzata via dal fiume di Fango nell'alluvione del 15 settembre scorso c'è un'altra ora allerta meteo affidate anche ai droni del nucleo operativo aereo di Recanati le ricerche di questa donna di 56 anni ancora dispersa dalla alluvione si cerca almeno di ritrovare il suo corpo ovviamente dopo tanto tempo non c'è che aspettarsi altro e diamo un'occhiata anche alle pagine regionali dove si parla di sanità e si parla in modo critico perché i problemi della sanità ancora rimangono soprattutto i tempi di attesa per avere delle prestazioni per avere degli esami per fare delle visite e la mobilità passiva che costituisce un onere molto molto gravoso sul bilancio della regione pensate che in tutto il bilancio della regione le spese sanitarie ammontano all'80% di tutte le risorse disponibili quindi veramente un budget importante e non ottenere poi risultati che uno si prefigge con tutte queste spese desta qualche perplessità vediamo come il Corriere affronta l'argomento dalle liste di attesa alla mobilità la sanità in apnea che cosa facciamo mancano medici e infermieri covid e rincari hanno svenato i bilanci l'elenco di criticità da risolvere il capitolo vale l'80% del bilancio regionale fallire qui vanifica gli altri risultati dell'amministrazione e quali sono i nodi da sciogliere i nodi da sciogliere sono quelli che ho annunciato prima le liste di attesa è stato recuperato solo il 54% delle prestazioni saltate nel periodo di covid meno che quanto è stato fatto a livello nazionale certe prestazioni sono diventate veramente un miraggio per una mammografia programmata si deve aspettare anche un anno conoscopie ecografie e teste cardiovascolari sono troppo spesso un'utopia e poi stando ai dati aggiornati all'inizio del 2023 nella nostra regione mancano 150 medici di base 70 medici del 118 200 infermieri e oltre 90 dottori del pronto soccorso vedete come la situazione è sempre più critica vediamo anche qualche altro articolo sulla pagina di Pesaro c'è un problema per quanto riguarda la salubrità delle acque del mare dopo che la marea di fango e di acqua sporca è affluita dai corsi d'acqua appunto nel mare tuffo e video con ricci per allontanare le fobie sulla sicurezza del mare e si pone in gioco anche la salubrità del pescato del pesce i pescatori ma anche i laboratori analisi affermano che il pesce che è sul mercato è in ottimo stato di salute quindi si può mangiare tranquillamente però insomma anche chi fa il bagno deve avere delle certezze perché va bene le ordinanze di divieto di balneazione sono state tutte revocate le analisi quindi hanno dato esito positivo però la gente quando vede un colore un pochino strano è sempre diffidente e ci vorrebbe che il mare di pesaro riacquistasse quel bel colore azzurro che ha di solito e aveva anche di più un tempo vediamo ancora un'altra pagina emergenza casa stanziati 250 mila euro il comune deve sostituirsi al governo il fondo anticrisi è stato tutto dirottato al caro affitti il problema a casa continua a essere un'emergenza sia a Pesaro che a Fano ebbene invece di aiutare le famiglie tramite uno sgravio della Tari il comune di Pesaro ha preferito dare un aiuto a chi non riesce più a pagare l'affitto ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino l'apertura è dedicata alle proteste di Viale Cairoli dove continuano appunto le opposizioni al taglio degli alberi che è conseguente all'inizio dei lavori per la qualificazione del sottopasso un sottopasso che dovrebbe essere sottopasso ferroviario che dovrebbe essere fruibile anche ai ciclisti oltre che ai disabili al momento infatti non lo è per scendere per transitare nel sottopasso ora i ciclisti devono scendere dalla bici e prendere la bici e portarla non dico a spalla ma insomma con un po' di fatica nel sottopasso mentre i disabili proprio non possono passare proteste in viale cairoli brunori dice andiamo avanti l'infrastruttura sarà dotata di un lungo scivolo accessibile a tutti dalle mamme con passeggino agli anziani alle persone disabili per evitare il taglio dei grandi plateni e la modifica della fisionomia del viale nato negli anni 40 sono già stati organizzati due sit-in ma al momento sembra che l'amministrazione comunale voglia continuare nel suo progetto di collaborazione con le ferrovie che si sono fatte carico appunto delle spese di questo inintervento e poi a fondopagina abbiamo l'articolo che riguarda Forza Italia stanchi dell'egemonia DEM conquisteremo i loro comuni lo ha detto appunto Elisabetta Foschi nel annunciare il coinvolgimento pieno del partito degli azzurri nella campagna elettorale che è già iniziata in vista delle elezioni del prossimo anno un articolo di cronaca vediamo questo ragazzo questo ragazzo è il giocatore 24enne della Guinea tesserato con il Fano che è stato fermato a Rimini dopo la denuncia di una ragazza che l'accusa di sequestro ma è stato subito reso libero perché il giudice non ha convalidato non ha confermato il fermo si tratta di Yaya Sou questo è il nome del giocatore del 24enne è accusato di un tentativo di estorsione nei confronti di un amico e di minacce verso una ragazza straniera ma residente nella nostra provincia la vittima che ha parlato di ricatto sessuale appunto questa ragazza a terre roveresche riapre la piscina comunale scoperta mentre a Mondolfo nel circuito Amat che è il circuito teatrale che coinvolge tutta la regione arriva Buffa si tratta del telecronista sportivo e autore che sbarcherà con il suo spettacolo due pugni guantati di nero che lo vedrà in scena con il pianista Alessandro Nidi l'appuntamento è in piazza del comune a Mondolfo nella serata del 9 luglio alle 21 e 15 a Urbino a Urbino vi prego ridatici i bus in piazza dopo le 18 è un appello accorato lanciato da un cittadino anziano che è rimasto appiedato dalla sospensione di questo servizio il giro in centro per molti è diventato letteralmente impossibile c'è rischio di isolamento così evidenziano alcuni clienti appunto del servizio pubblico tornate sui vostri passi dicono ai responsabili perché rendere la vita difficile lottate con noi l'appello è stato lanciato in una lettera aperta appunto da questo cittadino anziano e poi Urbino ha festeggiato i 100 anni dell'aeronautica militare una nuova mostra che vola alto il titolo è molto significativo inaugurata dal generale Francesco Vestito con il festival ideale di una giornata ricca ricca molti di eventi Rossi a Calippo solo una stalla non è previsto alcun laboratorio si tratta del bio laboratorio che ora sembra non si faccia più a Torraccia è stato spostato a Urbino ma ad Urbino si farà solo una stalla e quindi nulla di trascendentale siamo anche a Cagli strage fatta dai nazisti Cagli non dimentica mai il 21 giugno del 1944 i tedeschi rastrellarono povere persone inermi i giovani d'oggi sono andate bello a quest'atto sono andate a ripulire la lapide e a tenere viva la memoria e poi ancora una norma per recuperare gli edifici in montagna l'Udc provinciale si è mobilitato assieme al consigliere Giacomo Rossi la regione dovrà esprimersi e questa è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì sempre alle 7 per la prossima Rassegna Stampa grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione